L'incontro amichevole di oggi mette di fronte due grandi formazioni che di sicuro ci regaleranno un grande spettacolo. La temperatura è buona e il terreno in ottime condizioni. Tutto è pronto per il calcio d'inizio. Il quartiere fa l'assenza prima. Carica la botta! Peccato, buoniversario! Grazie! 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 Si coordina! Non si è fatto trovare in preparato. Si coordina per colpire al volo. Attenzione! Presa difettosa del portiere! Si coordina per colpire al volo. Carica la botta! Di testa! L'arbitro fa cegno di proseguire. Forse lo ha ostacolato irregolarmente. Prova in tiro da buona posizione. Rete! Impossibile sbagliare da quella posizione. Non c'è fallo per l'arbitro. Sono trascorsi i primi 30 minuti del primo tempo. Tiro! Ed è dentro! Go! L'arbitro fa cegno di proseguire. Anticipo provvidenziale. Di testa! Manca completamente il bersama. Prova in tiro da buona posizione. Sono quasi giunti alla fine del primo tempo. Si coordina. Bel tocco. Non c'è fallo per l'arbitro. Prova in tiro da buona posizione. Prova in tiro da buona posizione. Si coordina. Si coordina per colpire a volo. Go! Ha trovato l'incornata vincente. l'arbitro ha visto un fallo. Galcio di punizione. Si è vista una sola squadra in campo. Non credo che la situazione possa cambiare nel secondo tempo. Sta per avere in via la seconda frazione di gioco. Go! 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 Crose al centro. Colpo di testa. Si coordina per colpire al volo. Calcio di punizione. L'arbitro fa cerno di proseguire. Tiro! Si coordina! Tiro! E l'arbitro! Go! E l'arbitro! Parte il cross. Di testa! Colpisce di testa. Passaggio intercettato. Sono trascorsi i primi 30 minuti del secondo tempo. Si coordina per colpire a volo. Interrompe un'azione pericolosa. Banderina è alzata. Non ha recuperato la posizione ed è rimasto in fuorigioco. Calcio di punizione. Tiro! Tiro! Bel tocco! Brutto colpo Quella posizione si può tirare direttamente in fondo Si coordina L'arbitro facendo di proseguire Interrompe un'azione pericolosa E' stata una vittoria convincente Espresso un ottimo gioco e tenuto costantemente le redini della partita